allora mi raccomando e guarda c'è da comprare una marea di cose oggi eh sì c'è da comprare la libreria per lo studio si è detto sì e poi c'è da comprare il tavolo per la sala le sedie porca miseria speriamo entri tutto un macchino poi vedrai sono cose indispensabili vanno comprate per forza ma si spende un capitale sì poi c'è da comprare i cuscini nuovi per il divano per le sedie tutta la biancheria nuova per il letto perché i nostri lenzuoli fanno schifo mi raccomando solo cose indispensabili eh a me lo dici? questi potrebbero andare bene sono anche il colore del divano ma dov'è? candele allora un metro due metri questa ci dovrebbe stare precisi ma dov'è? tante candele oh ecco tavole belle le sedie sono anche molto comode ma dov'è? candele con le palle oh candele io vi porto a casa con me oh candele io vi porto a casa con me oh candele con le palle